Continuiamo a parlare di controlli, in particolare di un tipo di controllori classico, diciamo probabilmente più semplice di tutti, sono i controllori PID, PID sta per proporzionale, integrativo e D sta per derivativo. Vediamo in che cosa consistono. Prendiamo come situazione di riferimento un sistema di controllo lineare chiuso in reazione in cui c'è il processo da controllare, che immaginiamo sia un processo lineare, per il momento immaginiamo che sia un ingresso o una uscita. Per esempio potrebbe essere per un motore in continua la velocità di rotazione in funzione della tensione applicata all'avvolgimento di rotore, per esempio. Quindi un ingresso o un'uscita descrivibile con una funzione di trasferimento, un sistema di controllo, il cosiddetto controllore a monte del processo, questo è il controllore e poi la reazione, cioè prendiamo l'uscita, genericamente chiamiamola Y di T e la riportiamo in ingresso. Quindi in ingresso, vedete, c'è la differenza tra, viene fatta una differenza tra la R e la Y, diciamo questa è la quantità che chiamiamo E di T, che è la differenza tra R di T e Y di T. Come si interpretano questi dati? Immaginiamo che R sia il valore della grandezza di uscita che si desidera, Y è il valore attuale della grandezza di uscita, questa differenza è quindi a questo punto l'errore, cioè la differenza tra la grandezza che voglio, cioè il valore che voglio per la grandezza di uscita e la grandezza che invece ho e in base all'errore il controllore deve fornire il valore della variabile in ingresso al processo. D'accordo? Quindi questo per noi è l'errore. Niente di particolare, avete già visto un sistema di igiene, qual è l'obiettivo del controllo che vogliamo esercitare? Chiaramente sono più di uno gli obiettivi. Da un lato si vuole sicuramente minimizzare l'errore, in senso lato scrivo minimizzare l'errore, poi dal punto di vista pratico dovremmo minimizzare una funzione dell'errore, che potrebbe essere il modulo dell'errore, oppure il modulo quadro dell'errore, oppure un'altra funzione. Comunque noi in modo discorsivo diciamo minimizzare l'errore. Chiaramente abbiamo come obiettivo il fatto di avere un sistema stabile, questo è un requisito essenziale, e poi un altro requisito importante, un aspetto desiderabile, è quello di minimizzare il tempo di risposta. Fare in modo che l'errore, nel caso in cui ci sia una variazione del comando d'ingresso, una variazione dell'RDT, cioè vogliamo cambiare il valore desiderato dell'uscita, il sistema va dal nuovo regime rapidamente. Ovviamente non tutte le cose sono ottenibili contemporaneamente, ci sono un po' di compromessi, come potete immaginare, chiaramente rendere il sistema stabile, spesso richiede di avere un tempo di risposta un pochino più lungo. Minimizzare il tempo di risposta può avere come conseguenza rischiare di rendere il sistema instabile. Quindi quello è un aspetto di compromesso che poi andrà valutato caso per caso. Un sistema lineare di questo tipo è facile da analizzare, semplicemente nel dominio della trasformata di Laplace, chiaramente abbiamo che E di S, uso la solita convenzione per cui le maiuscole sono le variabili nel dominio della trasformata di Laplace. Quindi E di S sarà RS meno YS, d'altra parte però YS sarà PC per E di S. Anche P e C dipendono da S ma non lo rendo così esplicito. Questo vuol dire che Y, levo la dipendenza da S, mi viene PC al posto di E posso scrivere R meno Y da cui ricavo 1 più PC per Y uguale PC per R e quindi Y uguale a PC diviso 1 più PC per R. Quindi questa qua PC diviso 1 più PC è la funzione di trasferimento del sistema di reazione. Questo è chiaramente una cosa che sapete già, avete visto altre volte, qui c'è R. Posso analogamente ricavare quant'è E in funzione di R, quindi mi rimane un pochino di spazio, lo faccio. Chiaramente E, e se Y è uguale a PC, E sarà Y diviso PC, quindi devo levare PC dal numeratore. E viene uguale a R diviso 1 più PC. D'accordo, quindi il problema è tipicamente dati quegli obiettivi, scegliere la forma di C, l'espressione di C che mi consente di ottenere gli obiettivi. Tipicamente per me P è un dato, è il processo che voglio gestire, la funzione di trasferimento è il processo che voglio gestire, beh R dipende da quello che voglio far fare al sistema controllato. nel caso dei controllori PD, C ha una forma molto particolare perché come dice il nome, la funzione di trasferimento C del controllore PD è fatta dalla somma di tre componenti, una componente proporzionale più una componente integrativa più una componente derivativa. Tipicamente lo trovate scritto in questo modo, questa è la componente P, questa è la componente I e questa qua è la componente D. in generale se una delle tre componenti è nulla, abbiamo un caso particolare, il controllore PD, per esempio se è nulla KD abbiamo un controllore PI, comunemente si usa questa terminologia, se è nulla sia I sia D abbiamo un controllore PI, eccetera. Un'altra notazione abbastanza comune è quella di portare in evidenza KP e quindi di scrivere delle costanti di tempo al posto di KI e KD perché vedete per forza di cose KP è un numero puro, supponiamo sia un numero puro KP che diciamo le variabili di ingresso e di uscita si hanno comunque dei numeri al momento, KI e KD hanno unità di misura differenti e possiamo rappresentarle in questo modo, KP è uguale per 1 più, beh qui possiamo scrivere 1 su S tau I più tau D per S, quindi abbiamo una costante di tempo per l'integratore e una costante di tempo come si dice per il derivatore. L'altra cosa che ovviamente dovreste notare è che in realtà questa è una descrizione abbastanza idealizzata di come funziona un controllore PD perché nella pratica se volessimo realizzare un sistema tempo continuo, fatto così non potremmo avere quel termine tau D per S, è un termine che fisicamente non può esistere. Una funzione di trasferimento realistica dovrà avere almeno un polo in più per quello 0, non potrà esserci lo 0 da solo, quindi nella realtà questa sarà del tipo tau D per S diviso 1 più S tau, diciamo, star. se tau star è molto piccolo, quindi il polo è molto in alto, praticamente nelle frequenze di interesse noi vediamo soltanto lo 0, ok? Però, come dire, rigorosamente per forza ci sarà un polo molto in alto. se andiamo a disegnare il diagramma di Bode in funzione di omega su scala logaritmica, che cosa vi aspettate? Insomma, è abbastanza ragionevole, a bassa frequenza comanda la parte integrale chiaramente faccio un disegno qualitativo, poi dipende dai valori esatti dei coefficienti quindi qui comanda Ki su S, che è la parte che conta di più quando S tende a 0 ci sarà una regione intermedia in cui comanda la parte proporzionale e poi ad alta frequenza comanda invece la parte derivativa KD per S poi chiaramente ci sarà una frequenza tale per cui in realtà qui non va più infinito qui interviene a un certo punto, dovrà intervenire questo polo A1 su tau che porta a 0 la pendenza del diagramma di Bode di ampiezza i valori esatti a cui avvengono questi incroci sono facili da ottenere chiaramente questo qui avviene quando Ki su S è uguale a Kp e questo vuol dire che S, Omega deve essere uguale a Ki su Kp e questo avviene invece quando Kp è uguale a Kds quindi Omega è uguale a Kp su Kd questo, ripeto di nuovo, questi sono ragionamenti piuttosto generali potrebbe succedere che noi, a seconda dei valori di K si potrebbe non vedere in nessun modo la regione piatta potrebbe essere talmente bassa che di fatto si passi direttamente da meno 20 dB per decada a più 20 dB per decada allora, vediamo un po' di proprietà che si possono ricavare generalmente proprietà generali del controllore PD vediamo innanzitutto la risposta al gradino risposta al gradino che cosa vuol dire? vuol dire che immaginiamo che R, cioè l'ingresso, sia un gradino quindi abbia una funzione di trasferimento 1 su S noi abbiamo scritto prima la relazione tra l'errore e R ed era di questo tipo E era uguale a 1 più 1 diviso scusate, R diviso 1 più Kp io per comodità mi faccio il ragionamento con una variabile di ingresso che poi è abbastanza facile generalizzare chiaramente al posto dell'1 se vogliamo generalizzare più ingresso e più uscita al posto dell'1 ci sarà la matrice identità e al posto del diviso ci sarà come I più Kp alla meno 1 che è piuttosto banale la generalizzazione però non perdiamo di vista l'aspetto fisicamente più rilevante allora, quello che può essere interessante è vedere l'errore come evolve e in particolare il valore dell'errore per tempo infinito per vedere il valore dell'errore per tempo infinito cioè limite per T che tende a infinito dell'errore nel tempo voi sapete dalle proprietà della trasformata di Laplace questo si può scrivere come limite per S che tende a 0 di S per E allora se vado a fare la sostituzione al posto di E sostituisco questa espressione al posto di R scrivo 1 su S ma quello che avviene è che S si semplifica con S e mi rimane il limite per S che tende a infinito di 1 più C di S per P di S quindi cosa possiamo dire? beh, chiaramente se vogliamo che questo limite sia nullo cioè che a regime l'errore sia nullo cioè che a regime il valore della tensione uscita della variabile in uscita coincide con il valore desiderato bisogna che questo limite faccia 0 perché il limite faccia 0 il prodotto PC deve andare a infinito e che vuol dire che o P o C devono avere un polo nell'origine realisticamente è difficile pensare che P possa avere un polo nell'origine insomma P in processo potrebbe anche averlo ma insomma in termini generali non ce l'avrà quindi dobbiamo inserirlo con C quando è che C ha un polo nell'origine? per esempio se abbiamo la componente derivativa va bene? quindi se C ha la componente derivativa se C ha la componente integrativa certo volevo dire integrativa allora il limite per S che tende a 0 di C è infinito e quindi il limite per T che tende a infinito dell'errore è nullo va bene? quindi questo è il primo punto è perché è importante che C abbia la componente integrativa la componente integrativa ci garantisce che non si abbia errore per tempo infinito d'accordo? se non è vero se C non ha componente integrativa va abbastanza facile fare il calcolo allora il limite per T che tende a infinito dell'errore a che cosa è uguale? vedete della funzione di trasferimento del controllore se la componente integrativa non c'è la componente derivativa va a 0 perché è proporzionale a S rimane soltanto la componente proporzionale quindi avremo che l'errore tenderà a Kp per P0 P di 0 d'accordo? questo è quello che si chiama l'offset del sistema l'offset è l'errore che si ha anche a tempo infinito quindi comunque quando regolate il sistema voi non riuscite mai a mettere in una condizione di errore nullo ci sarà sempre un offset che è quello che chiaramente potrebbe essere piccolo in principio può essere piccolo a piacere perché se avete Kp sufficientemente grande potete come dire ridurre la dimensione dell'offset quanto volete poi ci sono altre altre cose che lo sconsigliano però in realtà sicuramente non è nullo allora vediamo l'effetto sulla stabilità dunque e qui bisogna ragionare in questo modo innanzitutto P il sistema che vogliamo controllare tipicamente diciamo se si comporta decentemente è un sistema passabasso la stragrande maggioranza dei sistemi che vogliamo controllare hanno un comportamento passabasso non fosse altro perché insomma fisicamente se si tratta di un oggetto meccanico tipicamente ha una inerzia che si manifesta alla fine in un comportamento passabasso per cui a sollecitazioni troppo rapide il sistema non risponde quindi è una situazione come dire abbastanza così tipica da poterla considerare diciamo sempre presente quindi mettiamo come ipotesi di P passa basso e immaginiamo che C invece abbia tutte le componenti in generale componente proporzionale integrativa e derivativa immaginiamo per il momento la componente derivativa sia ideale poi sappiamo che non potrà divergere se andiamo a rappresentare il dunque se andiamo a rappresentare l'andamento sul piano complesso di PC del guadagno d'anello in funzione della frequenza tipicamente abbiamo un andamento di questo tipo il prodotto PC tende in ampiezza a scendere all'aumentare della frequenza perché P è un comportamento passa basso d'accordo e tende tipicamente a perdere fase quindi ad avere una fase che si riduce quindi un comportamento più ragionevole è di questo tipo ok prodotto PC all'aumentare di Omega se io faccio PC DJ Omega ok all'aumentare di Omega mi tende a ruotare in questo modo voi sapete questo è un grafico importante per verificare la stabilità del sistema perché per esempio è su questo grafico che si definiscono il margine di fase e il margine di guadagno io mi metto qua e guardo il punto meno uno zero e in questo caso come sapete questo punto qua l'intercetta con l'asse reale mi dà il margine di guadagno cioè l'inverso del valore di PC diciamo che Omega sia come l'ho chiamato Omega chiamiamolo Omega asterisco Omega asterisco è tale che PC DJ Omega asterisco abbia la fase uguale a pi greco ok allora il margine di guadagno è uno su modulo di PC di Geomega di greco come si comportano rispetto al margine di guadagno i tre coefficienti del controllore ragioniamo un attimo allora il KP KP si vede che effetto fa in pratica se io aumento il KP quello che avviene è che aumento complessivamente il modulo PC KP da solo ha un effetto che mi viene meglio se scrivo un attimo in questo modo scusate metto KP in evidenza 1 più 1 su tau i per s più 1 su tau di più tau di per s ho messo in evidenza KP insomma ribadire meglio questo punto lo vedo bene se scrivo in questo modo KP è proporzionale a PC per C d'accordo quindi se io aumento KP aumenta il prodotto P per C quindi in questo caso nella seconda espressione in pratica la fase di PC rimane costante quindi semplicemente si gonfia questa curva all'aumentare di KP mantenendo la stessa forma e quindi il margine di guadagno si riduce ok quindi vediamo queste se KP aumenta l'effetto è che si riduce il margine di guadagno da punto di vista pratico questo mette un limite al valore di KP che posso ottenere ricordate un attimo fa abbiamo detto se io aumento KP posso ridurre l'offset in assenza anche della componente integrativa però questo in realtà posso farlo fino a un certo punto perché pago la cosa dal punto di vista della stabilità quindi potrò aumentare un po' KP ma solo fino a un certo punto gli altri fattori come intervengono si vede abbastanza bene KI e KD intervengono soprattutto sulla fase perché guardate KI dà un contributo di fase negativo termine KI su S per cui se aumento KI tendo a far ruotare il termine PC per fase negativa tengo ad aggiungere una componente di fase negativa a PC quindi tendo a ruotarlo in questa direzione questo è un discorso qualitativo siccome PC mediamente in questa fase specialmente ha un modulo che si riduce all'aumentare della frequenza se ruota in senso orario quindi per fase ridotta si riduce la omega asterisco e quindi si riduce il margine di guadagno d'accordo? chiaro discorso vedete se fate una prova con una funzione lo vedete naturalmente però immaginate KI ruota la fase in senso negativo quindi ruota il grafico di PC in senso orario se lo ruota in senso orario aumenta il valore del modulo dell'intercetta e quindi si riduce il margine di guadagno quindi con KI ho una rotazione oraria e quindi si riduce il margine di guadagno anche questo è da tenere presente perché che cosa succede io KP come in accordo a quello che dicevo prima è una quantità che tipicamente scusate KI è una quantità che tipicamente si inserisce per annulare l'offset ma bisogna tenere presente che anche il vantaggio di annulare l'offset si paga con una riduzione del margine di guadagno d'accordo KD ha un effetto invece opposto se aumento KD e si vede chiaramente KD qua da un contributo di fase positivo quindi fa una rotazione anti-oraria del grafico e quindi ha l'effetto praticamente opposto HKI da una rotazione anti-oraria e quindi incrementa immagini di guadagno KD D'accordo, gli aspetti di base del controllore PD li abbiamo visti, si gioca con questi tre parametri semplicemente nel modo in cui abbiamo detto, non ci sono altre considerazioni aggiuntive sul controllore PD di base. Nella pratica com'è che si realizza il controllo PD? Tipicamente questa funzione che qua ho descritto come una funzione tempo continuo, in realtà viene implementata con un microcontrollore. Quindi il processo è il processo che vogliamo gestire, controllare, può essere un motore, può essere un azionamento meccanico, può essere un processo chimico ai fini di quello che, diciamo di questo ragionamento non è importante definirlo in modo più dettagliato, ma insomma è un processo, un sistema fisico che avrà un suo set di variabili di controllo e di uscita. Il controllore di sodio si implementa con un codice, ma con pochissime linee di codice. Se vado a scrivere uno pseudocodice per non fare riferimento al linguaggio particolare del controllore, com'è che succede, com'è che sarà fatto il pseudocodice? Ve lo potete immaginare, io in pratica inizializzo i che è l'integratore, d'accordo? E poi qua salto una riga perché mi torna meglio spiegarla dopo, faccio un ciclo eterno, forever do, calcolo l'errore tra il set point che viene impostato dall'esterno e il valore attuale che viene tipicamente misurato da un sensore Actual position, quindi questo mi deve venire da un sensore e poi entra, è convertito in formato digitale e entra nel microcontrollore, il set point viene impostato dal terminale d'ingresso, dall'interfaccia, insomma quello che è, si calcola l'errore, una volta che c'è l'errore si può fare l'integrale, quindi l'integrale è semplicemente un accumulatore, i per delta t, delta t immaginiamo sia fissata una volta per tutte, e poi qua si può fare la derivata, la derivata sarà e meno e underscore old diviso di t, qui e old non è definito per questo qua lo definiamo all'inizio, il valore diciamo al tempo minore di zero dell'errore, serve soltanto per non avere un errore, questo è un diviso, non so se sì, è una barra, un slash, quindi questa è la derivata, e poi si calcola l'uscita del controllore, cioè u è uguale a kp per e più kd per i, più kd per i, quindi c'è la componente proporzionale, integrativa e derivativa. Poi prima di uscire dal ciclo si attribuisce a e old il valore di e, si aspetta un tempo delta t e poi si chiude il ciclo in modo da saltare di nuovo sopra. Chiaramente la relazione tra questi kp, ki e kd e quelli nella funzione di tempo continuo va un po' mediata, va un po' vista perché dipenderà dal passo temporale che si prende, ma insomma a parte coefficienti di aggiustamento l'espressione è facile e banale. Quindi il controllore pd di solito si realizza con un controllore bassissimo costo, perché l'operazione che c'è da fare è tipicamente molto semplice. non è, per valori di delta t molto piccolo, è praticamente trattabile come l'espressione tempo continuo e diciamo quello è il caso a cui facciamo riferimento. va bene, c'è una cosa interessante che a volte c'è l'esigenza di andare a modificare anche gli zeri del sistema e non soltanto i poli come si fa con il controllore che abbiamo visto finora. Il controllo che abbiamo visto ora agisce sui poli del sistema, non agisce sugli zeri, con una piccola modifica si riesce ad agire anche sugli zeri. Com'è che si fa? Si fa una cosa abbastanza semplice, si prende l'uscita del controllore e si aggiungono due gradi di libertà. Quindi qui dovremmo fare kp rs meno y di s, quindi questa è la quota proporzionale all'errore. Lo metto in modo esplicito l'errore perché così vedete che cosa si fa. Poi c'è la parte integrativa e qui invece dell'errore si fa una modifica, ci si mette alfa per rs meno y di s. Non esattamente l'errore. Per la parte derivativa si fa la stessa cosa, c'è un beta di rs meno y di s. Quindi questo vuol dire che in pratica modifichiamo un pochino il sistema in modo da applicare una funzione di trasferimento diversa alla r rispetto alla y. Se provo a raccogliere il termine con r e i termini in y mi viene un'espressione di questo tipo. U di s uguale a, raccolgo prima il termine in r viene kp più ki per alfa su s più kd per beta per s per r più, anzi meno, kp più ki i su s più kd per s per y di s. In pratica con questa piccola modifica che cosa ho fatto? Questa funzione di trasferimento qui è quella che abbiamo chiamato c, d'accordo? L'ho già chiamata prima c. Alla y applichiamo il controllore pd come l'abbiamo definito la prima volta. Alla r in pratica applichiamo un controllore pd diverso dove il coefficiente integrativo e il coefficiente derivativo sono stati leggermente cambiati. Vedete? Chiamiamolo per esempio c primo. D'accordo? Questa è la leggera modifica che facciamo. In pratica il sistema reale a cui ci riferiamo è un sistema leggermente diverso perché adesso che cosa facciamo? Abbiamo un controllore c primo applicato a r e l'uscita viene portata a un sottrattore con l'uscita del controllore c applicato a y. In pratica abbiamo fatto questa operazione qua. Prima avevamo un unico controllore dopo il sottrattore, adesso ne abbiamo due leggermente diversi. Se andiamo a calcolare la funzione di trasferimento è abbastanza facile calcolarla perché in pratica che cosa abbiamo? Abbiamo y uguale a p per c primo diviso 1 più p c per r. Vedete la funzione di trasferimento è cambiata nel senso che qui abbiamo invece di abbiamo c primo invece di c. Perché la cosa interessante? Perché a questo punto abbiamo due gradi di libertà in più in sostanza possiamo con c modificare poli della funzione di trasferimento e con c primo andare a modificare soltanto gli zeri. Quindi in pratica questo alfa e beta ci danno due gradi di libertà in più. Due gradi di libertà in più. C agisce sui poli della f di t e c primo agisce sugli zeri. Questo è un concetto abbastanza semplice però se volete potente per due motivi. Prima di tutto perché vedete una modifica minima vi consente poi di agire indipendentemente sugli zeri ed è potente come operazione in modo completamente indipendente toccate gli zeri e poli. Non solo ma poi dal punto di vista dell'implementazione è banale perché guardate l'espressione in alto dal punto di vista dell'implementazione in termini dello pseudocodice che abbiamo visto un attimo fa è proprio banale. Si tratta di prendere la riga in cui si calcola l'integratore e il derivatore e aggiungere alfa e beta. La complessità del codice non cambia per niente. Si tratta soltanto di scegliere quanto devono valere quelle variabili. Per molti sistemi di controllo in realtà veramente la parte difficile è scegliere i valori delle variabili più che implementare il sistema di controllo. Quello poi spesso non richiede aspetti di calcolo particolarmente difficili. Ecco dal punto di vista di come si scelgono le variabili del sistema di controllo c'è ecco parecchia letteratura perché chiaramente è un'operazione abbastanza facile se uno conosce la funzione di trasferimento è relativamente facile anche con un simulatore provare a vedere qual è il valore delle dei tre parametri per esempio il controllore IPD che mi garantisce il tempo di risposta, l'errore e la stabilità come voglio gioco un po' col simulatore con un po' di codice e lo verifica. In realtà dovete tenere presente che spesso tanti casi pratici non è esattamente nota la funzione di trasferimento che volete controllare. Quello che potete fare è soltanto magari provare a misurare il comportamento del sistema che volete controllare e da lì cercare di capire quella che può essere la funzione di trasferimento ma non è spesso nota. Ok? Di nuovo se si tratta di controllare un motore che vi è stato dato non è che vi è andato insieme al motore anche la funzione di trasferimento quella va un pochino caratterizzata. Il vantaggio per altri versi è il fatto che spesso nei sistemi reali le funzioni di trasferimento sono abbastanza semplici. Noi vedremo tra poco per esempio un motore in continua tipicamente una funzione di trasferimento che si schematizza bene con due poli reali uno a bassa frequenza e un'alta frequenza. Qui sistema passavasso classico si tratta abbastanza facilmente anche se tipicamente uno non sa esattamente dove sono i poli prima di doverlo controllare. Per questo motivo nel tempo sono state sviluppate un po' di ricette varie per poter decidere come impostare i valori del controllore PD sulla base di un set di misure abbastanza semplice quindi sono ricette come si dice tutto sommato abbastanza euristiche che funzionano fin tanto che i processi PDS sono abbastanza semplici e come dire regolari quindi tipicamente funzionano perfettamente se il processo è un processo passa basso magari con un polo dominante chiaramente da lì in poi funzionano sempre peggio più complesso di quello peggio funziona vediamo soltanto uno dei metodi in due versioni il metodo più classico veramente un metodo degli anni 40 che però ancora viene spesso adoperato ed è un metodo euristico non si riesce a giustificare fino a un certo punto poi veramente non si dimostra in termini generali funziona se il sistema si comporta abbastanza bene a questo si chiama metodo di Ziegler-Nichols Ziegler-Nichols pensate questo è stato proposto la prima volta nel 41 ci sono due versioni del metodo utilizzabili la prima versione è quella a ciclo chiuso funziona in questo modo ve la racconto come una riscetta poi vediamo di giustificarla un po' posteriore all'ipotesi di partenza è che il sistema di partenza sia stabile e che P di zero sia positivo quindi fase in zero nulla la ricetta è questa prima prima di tutto si chiude il sistema in reazione con C proporzionale immaginate chiudiamo il sistema in reazione con C proporzionale e si aumenta Kp fin tanto che si porta il sistema in oscillazione ok? quindi al limite dell'instabilità si chiude si chiude il sistema in reazione con C proporzionale quindi solo la componente proporzionale e si aumenta Kp finché il sistema comincia a oscillare ok? a un certo punto sapete insomma aumentando Kp si riduce il margine di guadagno a un certo punto il sistema si trova ad avere il fattore d'anello a una certa frequenza uguale a meno 1 per la convenzione che abbiamo preso in questo caso quindi il sistema comincia a oscillare si verifica soddisfatte le condizioni in barcausa allora in quel caso lì cosa si fa? si prende nota di K prendo nota di Kp che lo chiamo Kp critico Kpc e del periodo di oscillazione ok? che chiamo periodo critico e poi con questi due numeri dimensiono i coefficienti questo è il il criterio se faccio soltanto proporzionale ok? allora scelgo Kp uguale a un mezzo Kpc anzi scusate scrivo 0,5 perché così mnemonicamente si ricorda meglio va bene? allora questo è abbastanza facile da giustificare no? perché in pratica che cosa abbiamo che cosa è successo? che praticamente col Kp Kp critico avevamo che il Kp passava da meno 1 0 perché il sistema oscillava quindi le condizioni barcaose erano verificate se prendiamo un Kp pari alla metà del Kp critico vuol dire che alla stessa frequenza a cui avevamo passaggio da meno 1 0 si passa da meno 0 5 0 quindi margine di guadagno pari a 2 questa situazione è una situazione che mi garantisce un margine di guadagno uguale a 2 quindi abbastanza sicuro se voglio annullare l'offset quindi devo usare un controllore P I che cosa devo fare beh allora qui scelgo Ziegler Nichols mi dice scegli così Kp 0 45 Kp Tc e Tau I uguale a 0 8 Tc quindi sono proprio quindi delle ricette ripeto di nuovo anche qui non è ragionevole cercare di dimostrare il perché di questo valore un pochino si capisce il motivo in pratica qua che sto facendo ovviamente ho introdotto la componente integrativa che mi serve per annullare l'offset contemporaneamente voi sapete che la componente integrativa mi peggiora il margine di guadagno per cui cosa faccio compenso riducendo la componente proporzionale va bene quindi più o meno riesco ad avere un margine di guadagno simile a quello di prima vicino a 2 un po' mi è peggiorato per il tau i un pochino mi è migliorato perché ho ulteriormente ridotto la componente proporzionale sempre zigla e nico smisce se vuoi fare un controllore pd a quel punto hai un vantaggio perché la componente derivativa mi migliora il margine di guadagno e allora a questo punto puoi rilassare le condizioni sugli altri quindi per esempio nella ricetta mi si dice guarda con la componente derivativa allora metti a 0,6 kvc la componente proporzionale ti t uguale a 0,5 tc td uguale a 0,12 0,1 2,5 tc vedete vedete il fatto della componente derivativa mi rilassa i requisiti sugli altri ho aumentato kp anche tau i l'ho un pochino rilassato perché vedete prima aveva tau i uguale a 0,8 tc più è alto tau i più è basso il più è basso il contributo della parte proporzionale quindi diciamo più è alto tau i più è basso il modulo di c quindi mi si avvicina il grafico all'origine in questo modo quando ho la componente derivativa posso rilassare la condizione su tau i e aumentare un pochino la banda del sistema questo è diciamo un dimensionamento superclassico richiede una condizione non è tanto facile da ottenere perché dovete portare il sistema al limite della stabilità chiaramente per alcuni sistemi la cosa è banale anche per un motore piccolo la cosa è banale per una situazione un processo da controllare più complesso più pericoloso portarlo al limite della stabilità può essere rischioso perché chiaramente può scappare di mano per cui ci sono soluzioni ci sono diciamo ricette anche che non richiedono di portare il sistema al limite della stabilità c'è una variante del metodo di Ziegler-Nichols visto che rimaniamo su questo che si chiama a ciclo aperto Ziegler-Nichols a ciclo aperto che è un po' più semplice di fatto che cosa si fa a ciclo aperto si va a misurare la risposta al gradino del P quindi si misura la risposta misurare la risposta al gradino di P questo vuol dire per esempio che io si chiama U l'ingresso dunque P diciamo è fatto così da U in ingresso e Y in uscita quindi immaginiamo che U sia un gradino in questo modo e la Y insomma se il sistema si comporta abbastanza bene ha una forma di questo tipo di solito fatemelo fare il rosso cioè di solito qui è 0 qui ci vuole un po' poi a un certo punto parte e poi va a regime ok ha una forma di questo tipo quello che si fa è avendo la forma della risposta al gradino estrarre una approssimazione della funzione di riferimento della funzione di trasferimento quindi si fa questo ragionamento si dice beh allora io guardo interpreto questo punto qua il punto di stacco come un ritardo quindi questo pezzo lo chiamo L poi qui ho un andamento quindi prima qui pare che non si muova va bene quindi supponiamo che ci sia un andamento nullo poi qui parte più o meno linearmente e poi approssimo questo con una risposta a un esponenziale quindi io che cosa faccio traccio prolungo anzi prolungo la parte lineare come se fosse una risposta a un esponenziale guardo l'asintoto e questo punto e questo punto qui è la costante di tempo non esponenziale quindi questo per me è la costante di tempo questa qua la chiamo p di zero se questo è uno il valore al regime è p di zero e quest'altro pezzettino lo chiamo a quindi tiro fuori queste quattro quantità dalla risposta al gradino ora vedete bene che i due triangoli sono simili per cui chiaramente la pendenza dell'ipotenusa è la stessa quindi avrò che a su l è uguale a t su p zero allora in pratica che cosa sto facendo sto approssimando la funzione di no sto approssimando la funzione di trasferimento con questa espressione in pratica sto dicendo vabbè io posso scrivere p di omega di j omega uguale a un termine di ritardo di una quantità di un tempo pari a l quindi qui c'è un e alla meno j omega l questo è il tempo di ritardo per una funzione di trasferimento con un polo determinato alla costante di tempo t e poi un valore p zero è il regime quindi qui metto p zero diviso 1 più j omega t quindi questa è l'approssimazione che facciamo allora andiamo a fare il grafico di p sul piano complesso a variare di omega chiaramente chiaramente qua si avvita per questo ritardo che c'è però diciamo vediamo di calcolare il valore di omega per cui la fase è uguale a pi greco per fare per fare un conto approssimato per omega circa uguale a omega asterisco immaginiamo di poter trascurare l'uno al denominatore quindi p di j omega sarà circa uguale a e alla meno j omega l per p zero diviso j omega t allora che cosa succede che questo termine qua p zero è positivo il denominatore dà un contributo che è meno pi greco mezzi quindi quando anche il numeratore dà meno pi greco mezzi la la fase di p è uguale a meno pi greco quindi quando omega l omega asterisco per l è uguale a pi greco mezzi in quella situazione la 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 fase è uguale a pi greco d'accordo quindi da qui posso ricavare qual è il valore di omega star è pi greco fratto due l e poi posso ricavare anche quanto vale p in j di omega star approssimativamente d'accordo il modulo quello che mi serve per determinare il margine di guadagno approssimativamente quant'è beh il numeratore sarà qui uno qui sarà p zero e sotto avrò omega asterisco per t quindi ho pi greco t per due l in base a quello che ho scritto prima vedete detto bene vediamo un pochino se torna a un pochino vediamo un pochino Dunque Non mi viene Se l'espressione mi sembra giusta Però volevo utilizzare Ah no ecco Ho sbagliato una cosa Qui ho sbagliato questa cosa scritta in celeste Non mi tornava con quello che mi aspettava Questa cosa in celeste è sbagliato Ho fatto A su L è uguale a P0 su T Non T su P0 Ho sbagliato Ho invertito la frazione qua P0 su T Che non mi tornava Questo è P0 su T No perché mi serve questo? Perché vedete se moltiplico per L P0 per L su T È proprio uguale ad A E quindi mi serviva per Semplificare qua E dire guardate Qui ho A per 2 su P greco Allora questa condizione è importante Perché è importante? Perché a questo punto Io ho una ricetta per determinare Kp Per esempio Se quando faccio il controllo Soltanto proporzionale Scelgo Kp uguale a 1 su A Mi viene un margine di guadagno Pari a P greco mezzi Che è Quasi 1,6 Quindi mi viene un buon margine di guadagno D'accordo? Vedete se Kp Dunque se il controllore lo faccio solo proporzionale E scelgo Kp uguale a 1 su A Allora Pc in J Omega star È uguale a 2 su P greco Quindi margine di guadagno Uguale a P greco mezzi Che comunque è un margine abbastanza buono E in effetti Questo è il ragionamento Che viene fatto Nella ricetta Quindi la ricetta funziona così Kp Tau i E tau d Una volta che ho determinato A ed L In pratica Kp è uguale a 1 su A Se faccio il controllo soltanto proporzionale Se lo faccio proporzionale integrativo Di solito Di nuovo come prima Devo scegliere un Kp un po' più piccolo E prendo un tau i pari a 3 L E invece se lo faccio derivativo Posso prendere un Kp più grande Anche un tau i lo posso prendere più piccolo E aggiungo L mezzi Cove tau d L è un tempo Non è il tempo di ritardo Quindi Di nuovo Non ha tanto senso andare a capire Il motivo esatto di quei coefficienti Perché fanno riferimento a un sistema tipo Si giustifica bene il primo Gli altri Cioè il primo modo preciso Analitico Gli altri qualitativamente si capisce Almeno direzionalmente Che valori devono avere Ci basta questo Di solito poi Questi numeri qui Vengono usati Spesso anche come prima approssimazione Uno magari usa Il metodo Ziegler-Nichols Per fissare i parametri In prima approssimazione E poi fa un tune infine Direttamente sul sistema Ok Ripeto Questo è Pratica soltanto un esempio Perché poi nella pratica Ci sono Tante 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 riscette diverse Tanti criteri differenti Di scegliere i parametri Sono poi Sono piccole variazioni sul tema Poi Ho un'altra L'ultimo punto A cui volevo fare riferimento Su questo argomento È il cosiddetto problema Del Wind up Si chiama Così un problema legato All'avvolgimento Vediamo di che si tratta È un problema classico Quindi vale la pena un attimo Di evidenziarlo E' legato al fatto che C'è un aspetto Di Come dire Di realtà Importante Che quando si fa Il Quando si rappresentano Sistemi lineari Non viene tenuto Completamente In considerazione Ed è il fatto Che in realtà Le variabili Di controllo Possono essere Possono variare Soltanto In un certo intervallo Quindi magari Possono variare Con continuità Ma non possono Assumere valori Arbitrariamente Grandi o piccoli Per motivi Pratici Per motivi Di sicurezza Qualunque motivo Per esempio Un Per fare il solito esempio Motore in continua Che controllo Con la tensione Applicata All'avvolgimento Del rotore Chiaramente La tensione Applicata All'avvolgimento Non potrà avere Un valore Qualunque Perché poi Al limite Sarò limitato Dal Valore Della tensione D'alimentazione L'alimentatore Del sistema Mi fornirà Un valore massimo Di tensione Quello non potrà Essere limitato Che conseguenze Ha questo aspetto Sul controllo Per vederlo Basta aggiungere Un elemento Di saturazione Nel controllo Che può essere Ad esempio Rappresentato così Io voglio Tenere presente Che U Cioè la variabile Che inserisco In ingresso Non può variare Anzi mettiamola qua Non può variare Come dire Da meno infinito A più infinito Metto qua Un Una non linearità Che ha una caratteristica Di trasferimento Fatta Così È Una retta Compendenza 1 Fino a un certo valore Dell'ingresso Poi satura Quindi questo punto qui È una certa U critica Questo è meno U critico Il controllore Lo metto qua E poi sopra Cioè A monte del controllore Chiaramente Devo inserire Il Sottrattore D'accordo Diciamo Questo giustifica Molto Semplicemente Con l'aggiunta Un elemento Non lineare Banale L'effetto Che vi dicevo prima Che cosa succede Se Il sistema Il processo Che voglio controllare I non riesce A raggiungere L'uscita Che impongo Chiaramente C può essere Alto Quanto volete Ma La U In ingresso Al processo Comunque Non supera C D'accordo Ripeto Questo può essere imposto Da criteri Di sicurezza O semplicemente Dal range Di funzionamento Dei vari Sistemi Qual è Il Problema C'è un problema Se C'è una componente Integrativa Vediamo se è chiaro Il problema Vediamo Di spiegarlo Come un esempio Immaginate Che Si tratti Di un motore Va bene R È la velocità Che volete Per qualche motivo Il motore Non riesce A raggiungere La velocità Di rotazione Che voi imponete Va bene Quindi la y Viene inferiore A r D'accordo L'errore L'errore È presente C Integra E quindi La u Diventa Sempre più alta Cosa succede Il motore Non riesce A raggiungere La velocità Che volete E quindi Il controllore Manda un ingresso Sempre più alto Al motore Chiaramente Nella pratica Se Questa u È la tensione Di alimentazione Del motore Sarà fissata Al valore Del supply voltage Del sistema Quindi Fisicamente C'è Un blocco Che si comporta Come un Come una Come una Saturazione Come indicata là Qual è il problema Il problema È che Se c'è L'integratore La u Tende a salire Sempre Il processo Non ha Problemi Fino a questo punto Perché comunque La velocità Non viene raggiunta Se improvvisamente Voi cambiate Direzione Per esempio Quindi cambiate Segno A r Volete che il sistema Vada nella direzione Opposta Sistema un ritardo Enorme Nella risposta Perché c'è l'integratore A quel punto Quando voi Invertite il segno Di r U Comincia a scendere Ma prima Deve scendere Da dove è arrivato Poi a un certo punto Dopo parecchio tempo Arriverà A raggiungere Il valore Per esempio Negativo Che serve A far girare Il motore Verso opposto D'accordo Se è passato Tanto tempo Nella direzione Precedente Può passare Molto tempo Il ritardo Nella risposta Del sistema Può essere eccessivo D'accordo È chiaro il discorso Questa variabile U Cioè l'uscita Del controllore Se il controllore È integrativo Può essere talmente fuori Regime Fuori dell'intervallo Ragionevole Che per far funzionare Di nuovo Il controllore C'è bisogno Di attendere Parecchio tempo Che uscenda A valori Più accettabili D'accordo Allora ci sono diverse tecniche Per evitare Questo problema Devo dire In passato Raccontavo anche Come si faceva Con sistemi a tempo Continuo A evitare Questo problema È abbastanza semplice Bisogna Aggiungere Del Dei blocchetti Con delle funzioni Di trasferimento Che 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 Consentano A U Di non Avanzare Dal punto di vista Del controllore Implementato Su un Microcontrollore Invece È molto banale Bisogna In qualche modo Nello pseudocodice Che vi ho fatto vedere Prima Fare un controllo E Bloccare L'integratore Se U È maggiore Di uc D'accordo Quindi basta aggiungere Un if then Nello pseudocodice Di prima E Dire Esplicitamente Guarda Se U È maggiore Di uc Blocca L'integratore Non fare la somma Mi torna Proprio banale Cioè Io Torno qua E qui Che cosa faccio Ora non voglio scrivere Perché poi Sciuppo la cosa Ma prima dell'integratore Dico Guarda Se u È maggiore di uc Non fa Salta La riga A questo punto Sono sicuro Che non ho il problema Del wind up Bene Quindi la riscetta In questo La riscetta La riscetta La soluzione In questo caso Il caso digitale È molto semplice Bisogna Inibire L'integratore Se U È maggiore Di uc Nel caso Se Nel caso Analogico Diciamo Il sistema A tempo continuo C'è più o meno La soluzione simile In qualche modo Bisogna fare in modo L'integratore Si stacchi Quando la condizione Si verifica Chiaramente In modo analogico Diventa un pochino Più complicato Implementare Ok Ci fermiamo qua Su questo argomento